E' un vivai urbano del favore. Nessun parcheggio né ora né in futuro, il Comune di Fano ha deciso, nell'area dell'Exagipa ad ottobre sorgerà un vivai urbano con 300 piante in vaso. Nel perimetro invece una rete metallica è una grande scritta per una iniziativa unica nel nostro territorio. E' stato definito innovativo e partecipato, il progetto illustrato dal Comune di Fano che aveva affidato l'incarico al centro di ricerca dell'Università di Ferrara, ma seguendo alcune linee guida, come quelle di tenere in considerazione la sostenibilità, la fruibilità ciclabile e pedonale, ma anche la connessione al centro storico e una porta d'ingresso da caratterizzare. Gli studenti, così, hanno lanciato l'idea del vivaio temporaneo che vedrà la luce nel prossimo autunno dopo la fideiussione e la bonifica. Ci rimarrà per 7-8 mesi, evitando il degrado urbano e il parcheggio selvaggio, e giusto il tempo di stabilire una volta per tutte il futuro di quell'area tanto discusso in questi anni. In ogni caso, il Comune non intende utilizzarla per la sosta dei veicoli, al contrario, vuole perseguire le politiche ambientali puntando sul verde. Questa amministrazione aveva la necessità di trovare delle soluzioni veloci da poter attuare immediatamente, perché a breve ci cederanno quest'area. Con una spesa non troppo onerosa, riusciamo appunto subito a dare una funzione, attraverso delle opere di rigenerazione urbana, su quest'area. Metteremo degli alberi, delle alberature, che dei giovani alberi che mano a mano, che cresceranno, verranno poi spostati in altre aree, dove attualmente serve creando nuove aree oppure andando a sostituire degli alberi ammalorati nei viali. In questo modo diamo subito una funzione a quell'area, rigeneriamo, diciamo, anche lo spazio circostante e prendiamo un po' di tempo per poter, contemporaneamente a questo tempo che il vivaio crescerà in quest'area, daremo un incarico per poter fare la progettazione definitiva dell'area strutturale. Ci sarà anche un percorso partecipato con la cittadinanza, sicura l'assessore, e poi, entro il 2022, inizieranno i lavori per il progetto definitivo. Il vivaio, invece, non sarà fruibile al pubblico, ma si pensa alla possibilità di accesso per determinate occasioni o per motivi didattici, mediante la partecipazione delle scuole. Inoltre partirà un altro incarico per stabilire dettagli sull'idea lanciata dall'università, compresa la gestione e la manutenzione del verde, che poi, in futuro, passerà ad Aset SPA. Di fatto produce anche un messaggio positivo, un messaggio con una ricaduta positiva, sia proprio sulla salute delle persone, ma anche di partecipazione e di socialità, perché inevitabilmente si aprirà un dibattito sulla città, ed è un dibattito che è perfettamente in linea con tutto quello che è la nostra politica ambientale, che oggi vede anche collaborazione con un patto di intesa che abbiamo, sia con l'Università di Firenze che con la Politecnica delle Marche, per quanto riguarda la stesura di un piano del verde, un piano anche proprio per arrivare all'attuazione del regolamento finalmente del verde urbano, e il censimento di tutte quelle che sono le infrastrutture verdi. Per cui mi sento di dire che sono molto contenta, che grazie a questo progetto in forma temporale, sostituire i parlanti con esseri viventi, quali le piante, che le piante hanno un beneficio straordinario sulla salute non solo dell'ambiente, ma anche delle persone.